Allora Pamela, se il buongiorno si vede da una prima non poteva partire meglio questa stagione, vincendo un derby, gran bella partita risolta sui due punti, cosa ne dici? Sì, direi che siamo partite col piede giusto, abbiamo vinto 3 a 2 e è andata bene, siamo partite un po' lente, il primo set ci è voluto un po' per carburare, però poi piano piano ci siamo riuscite, insomma è andata bene. D'altronde la squadra sono compagnie vecchie, sono compagnie nuove, compresa io, e di conseguenza bisogna un po' ritrovare il feeling, chi ce l'aveva lo deve un po' ritrovare dall'anno scorso e chi come me, per dire che con la palleggiatrice non ci ha mai giocato, magari devo riprenderci un po' l'abitudine. Sei uno dei rinforzi che te ne pare di questa squadra, di questo nuovo ambiente, e in un mesetto circa di lavoro che hai sostenuto. Sì, non è tanto che abbiamo iniziato, io sono due anni che sono ferma, che ho avuto una bimba e riprendere comunque mi ha fatto piacere, sono contenta, sicuramente non riuscirò a metterci l'impegno che ci ho sempre messo in tutti questi anni, però piano piano rincominciamo a rilento, però piano piano secondo me la squadra è buona, l'anno scorso hanno fatto un bel risultato e se riusciamo a replicarlo, se non a fare meglio, bene, comunque andarci vicino è una bella cosa, diciamo.